E se è così io sono Chewbacca, quindi no? Io ho re due due. Sigue. Esa risposta claramente è per Jaime Lorente. No, Luca, se le va molto bene. Sigue, la storia sigue, la energia della serie sigue, la tercera e va a seguir in la quarta, os juro. No, è così. Sì, credo che, come ho detto prima, la gente attraverso la serie Vancouver Media, Alex Pina e il suo equippo, e Netflix anche, sapono che hanno il potere per seguire questa storia. E questo è. Io, come nuovo, posso sentire la gente, i suoi attori, l'equipo tecnico, lavorando e impugnando. E il pubblico va a agradecerlo, sicuro. Il professore nei primi episodi parla di resistenza. Questo mi ha fatto molto pensare ai ribelli di Star Wars. Vi sentite un po' come le banche, l'impero, no? Il lato oscuro della forza, e voi un po' come i ribelli in Star Wars. Sì, un po' sì, hai qualcosa di questo. Osea, però non a livello politico. Non c'è nessun tipo di motivazione politica per la che noi, magari il professore si la tenga. Però, i ragazzi della banda, entriamo lì, no? Però, bene, sempre che luchas contro un sistema establecido, te sientes un po' rebelde. O, almeno, irreverente. E se è così, io sono Chewbacca, allora, no? Sì. Io ho re due due. Ho re due due. Netflix in questi anni sta investendo moltissimo sulla serialità europea e credo che La Casa di Carta sia un esempio, sia un simbolo per tutto il mondo, visto che è la serie più vista, non in inglese, al mondo. Quindi, secondo voi, come la serialità, soprattutto grazie a Netflix, come la serialità europea sta cambiando, come anche gli attori, magari spagnoli o italiani, vengono molto più conosciuti nel mondo, secondo voi? Come ha cambiato? Ha cambiato, io credo che tutto, no? Questo lo explicava in un'altra entrevista, antes tu tenías un menù e podías elegir lo que te dava, in nostro caso era Antena 3, 4, La Sexta, Tele 5, certos canali, che podían essere meglio o peor, però tu tenías che elegir dentro de lo che aveva. Ora arriva a Netflix, ti dà la carta e ti dice che vuoi, come ti lo vuoi e quando ti lo vuoi. Quindi, puoi elegire. Come ha cambiato questo nostro paese? Beh, hai molti più producioni, sono di molta maggior qualità, la gente sta esperando a vedere che facciamo in España, cosa che non succedeva, e, come ha detto antes Luca, questo crea un montón di posti di lavoro, sia per tecnici, sia per actori, sia per produttori, e, come, ha cambiato tutta la industria del audiovisual in nostro paese, per lo meno? Eh, in Europa, in... Seguro. Perfetto. Viva Netflix! Grazie. Grazie. Grazie.